salve ragazzuoli finalmente il momento è giunto e infatti oggi vi racconto avventura 2 per il commodore 64 ma andiamo con ordine se vi ricordate qualche tempo fa avevo pubblicato un video di un gioco per commodore 64 un gioco di ruolo testuale chiamato conan e vi avevo raccontato che si trattava di un caso abbastanza raro di piratata all'interno dello stesso mercato italiano insomma una piratata fra italiani infatti conan era una versione pirata con qualche leggera modifica di un gioco che si chiamava avventura 1 che era stato realizzato da un certo alessandro castellari di questo gioco avventura uno non esisteva una un'edizione che si trovi che si conoscesse commerciale che era stata pubblicata su qualche rivista o venduta o venduta in maniera commerciale in qualche negozio però esisteva un dump e effettivamente questi due giochi erano molto molto simili c'era giusto qualche cambiamento di nome qualche tempo fa in particolare a dicembre dell'anno scorso il sito internet blog 4 bit ha pubblicato un articolo un post in cui avevano hanno comunicato il fatto che erano riusciti a entrare in possesso delle cassette di tre cassette pubblicate da una software house bolognese chiamata electronic future world e queste tre cassette erano tre lavori di alessandro castellari ovvero avventura 1 la battaglia d'inghilterra di cui comunque esisteva un dump non ufficiale non commerciale e soprattutto avventura 2 il seguito fra virgolette punto interrogativo di conan fra poco lo andremo a vedere adesso andiamo a vedere un attimo molto rapidamente il il manuale in realtà l'inlay che è presente in avventura 1 andiamo a vedere un attimo di che si tratta eccolo qua c'è scritto semplicemente avventura 1 l'eroismo vedete electronic future world commodore 64 c'è un omino con una con una spada che fronteggia un drago avventura 1 l'eroismo benvenuto nella valle degli eroi giocherai nel ruolo di un personaggio che puoi scegliere fra tre predefiniti oppure puoi scegliere di ottenerne uno generato casualmente random le forze del personaggio sono sei forze intelligenza destrezza fortuna robustezza e fascino nel personaggio random le caratteristiche hanno un valore minimo di 8 e un massimo di 18 l'abilità nell'uso delle armi è data dalla propria forza per 5 così un personaggio di forza 12 usa le armi al 60 per cento e da il 60 per cento di probabilità di colpire il nemico o parare i suoi colpi le altre caratteristiche serviranno in varie occasioni verranno specificate a mano a mano che dovrai usarle quando sarai cresciuto nelle caratteristiche fino a 20 e nella capacità di combattimento oltre il 200 diventerai un eroe comunque le caratteristiche non crescono mai oltre 20 limite massimo ma possono calare fino a sino a 0 e sei morto attenzione attenzione vampiri licantrovineri e lupimannari sono molto veicolosi lo sappiamo perché non possono essere sconfitti solo con delle spade magiche se sarai ferito potrai curarti riposando in taverna o bevendo i filtri magici che curano le ferite bisogna prima trovarli se possiede un nastro magico poterlo premendo il tasto funzione f1 in ogni momento può salvare l'avventura sul nastro e richiamarla in seguito personaggi predefiniti ok perfetto quindi questo era il manuale di conan ovvero di avventura 1 come abbiamo visto probabilmente alessandro castellari era un appassionato di penso di dungeon and dragons perché questo gioco avventura 1 ovvero conan è molto simile per certe meccaniche al dungeon and dragons classico ha diverse caratteristiche vanno da 6 a 18 e quindi possono può ricordare molto da vicino il classico dungeon and dragons adesso andiamo un attimo a dare un'occhiata molto rapidamente a avventura 1 che per vedere un attimo se se è simile a conan per esempio vabbè facciamo inizio avventura poi scegliere tra i tre personaggi guerriero qui si chiama thoralf e jasper l'avventuriero vabbè prendiamo thoralf per esempio giusto perfetto e fin qua sembra assolutamente identico a conan prima settimana avventura se la taverna del gobbo va bene cambiano un pochino i nomi premio il tasto per continuare licantropo e nero la moglie di un dignitario di corte sta perché a partire la carovana che tutti i mesi si rega nella favolosa città di babbakesh invece che marra cash dove vengono fabbricati oggetti armi immagini salvare l'avventura sul nastro vabbè proviamo a fare giusto un attimo la numero 2 se hai ricevuto dal dignitario di corte ti conferma ricompensa promessa numero di incantato da informazione il colt pare che la moglie sia ora costituita una banda di briganti che si trovano nelle rovine del castello maledetto accettare la missione prima settimana di viaggio 4 troll vabbè fuggiamo ed evitiamoli tanto vediamo che per ora è assolutamente identico sta per cadere in un imboscata devi fare meno della tua intelligenza ho fatto 10 ti sei accorto dell'imboscata imboscata attesa da 4 sauri di evitare l'imboscata imboscata evitata prosegui l'avventura se è arrivato all'alba in vista delle rovine del castello maledetto vabbè devi fare meno della tua destrezza ce l'abbiamo fatta e facciamo il combattimento corpo a corpo con il boss ha ucciso l'avversario va bene alla morte è assolutamente identico a conan sono cambiati giusto un pochino i nomi abbiamo evitato l'imboscata dei sauri evitiamo l'imboscata terminata quarta settimana di viaggio viaggio tranquillo sei ritornato ti rechi dal dignitario di corte riceve la ricompensa battuta un amuleto incantato che ti accresce un punto dell'intelligenza perfetto ritorniamo e poi come come vedete insomma prosegue esattamente come come il c'è un pericoloso bandito presso il monte di cristallo non si trova la pietra ircana di un ricco mercante vabbè come vedete sono cambiate un pochino il barone gurdun gurdun sempre lo stesso sono cambiate un pochino i nomi degli oggetti da recuperare dei nemici e cose di questo genere però e per il resto il gioco è praticamente identico a conan ok naturalmente in descrizione metterò il link ai post di 4 bit per se volete leggere tutta quanta la storia che riguarda il ritrovamento di avventura 1 ed avventura 2 e oltre naturalmente metterò anche i link alle pagine di ridi 64 per quanto riguarda gli in lei che si possono trovare dei giochi e i dump e i dump delle cassette ok va bene direi che per quanto riguarda avventura 1 barra conan abbiamo detto più che abbastanza e adesso andiamo a vedere avventura 2 a fra poco ok eccoci quindi arrivati ad avventura 2 vedete che subito è scritto avventura 2 galattica di alessandro castellari prima di andare a cominciare il gioco diamo subito un'occhiata al lì lei ovvero il manuale il manuale che era allegato con la cassettina allora eccolo qua avventura 2 questo si prima il primo si chiamava l'eroismo e questo si chiama l'esplorazione zoomiamo un pochetto sei un tenente degli esploratori spaziali e devi esplorare una parte di spazio sconosciuto hai a disposizione un'astronave modulare che puoi equipaggiare a tua scelta tutti i tipi di nave hanno una dotazione minima standard un radar e 10 punti di carburante la scoperta di pianeti e missioni esplorative ti danno punti di merito e promozione ad ogni promozione ottiene una nave più grande e meglio equipaggiabile l'obiettivo è di diventare a miraglio in 10 missioni o meno lo spazio tridimensionale che dovrai esplorare è suddiviso in 5 settori srattoposti tra loro ogni settore è composto da 81 quadranti di un parsec muoversi da un quadrante all'altro dello stesso settore costa un punto di carburante saltare o scendere da un settore ad un altro fare un balzo iper spaziale costa 5 punti carburante attenzione il balzo iper spaziale cieco pur restando all'interno dello spazio delimitato come sopra il punto di arrivo è regolato dalle misteriose leggi delle correnti galattiche ovvero è casuale astronave base di parte vabbè questa dovrebbe essere una leggenda suppongo astronave base partenza sistema planetario se la base è sulla nave o su un pianeta i due simboli lambeggeranno allestimento astronave ogni nave può essere a scelta equipaggiata con un numero fisso di moduli specialistici prima della partezza per ogni missione dovrai scegliere gli strumenti e gli equipaggiamenti con cui preparare preparerai la tua astronave non ci sono limiti per i singoli moduli ma il totale non potrà superare il numero di moduli prefissati i moduli disponibili sono astrolaser per la battaglia serbatoio di carburante radar di ricerca mezzo da sbarco planetario volivalente sensori di analisi planetarie bomba nuova per distruzione planetaria i radar e i sensori possono essere sommati per migliorarne le prestazioni ma un massimo ma fino con un massimo di tre oltre tale numero servono solo come riserva per le avarie gradi e navi ok si parte da tenente si arriva ad ammiraglio le navi astrocace mod ok i moduli per le varie navi sono 4 8 12 e 16 per ottenere una promozione bisogna ottenere 10 punti di merito ok missione punti di merito scoperta di un nuovo sistema planetario un punto a seconda del tipo e degli abitanti vi sono varie missioni i sensori planetari ti aiuteranno nell'individuare la giusta missione ma se non li hai o i dati segnalati sono insufficienti puoi tentare con il modulo polivalente meno efficiente o rinunciare razza del pianeta va bene non abitabile non intelligenti intelligenti amichevoli intelligenti neutrali intelligenti quindi a secondo della popolazione che c'è su questo pianeta dovremmo o fare nulla o colonizzarlo o fare una missione diplomatica o un trattato commerciale oppure distruggerlo con una con la bomba nuova e a seconda delle varie missioni faremo diversi punti ok allora come avevo detto il precedente gioco avventura 1 sembra essere un in qualche modo un'indicazione del fatto che castellari amasse tangente and dragons in particolare questo secondo gioco sembra che lui amasse leggo qui sul post di 4 bit un gioco da tavolo un gioco di ruolo che si chiamava settima legge che è molto molto simile un gioco a metà strada il gioco da gioco di ruolo il gioco da tavolo in cui sostanzialmente bisogna fare la stessa cosa siamo una sorta di esploratori dello spazio dobbiamo esplorare lo spazio dei pianeti e a seconda dei pianeti che troviamo dobbiamo comportarci in maniera diversa per riuscire a guadagnare punti e riuscire a scalare tutta quanta i vari gradi all'interno di questa specie di flotta galattica quindi il gioco il secondo gioco avventura 2 vedete si discosta completamente da avventura 1 non è un seguito è un gioco completamente diverso di ambientazione fantascientifica spaziale di esplorazione il gioco è stato pubblicato proprio ieri il 21 marzo del 2024 quindi non ho assolutamente avuto il tempo di vederlo in dettaglio di provarlo ho provato a fare un attimo un paio di partitine è abbastanza interessante secondo me molto più complesso di avventura 1 ci stanno delle fasi così strategiche ci sono anche delle piccole sequenze arcade anche questo sembra essere programmato tutto quanto in basic vediamo un attimo vediamo un attimo com'è anche per questo qui naturalmente in descrizione troverete sia il link per il post di 4 bit che della pagina di ready 64 se siete interessati a scaricare il gioco gli in lei e cose di questo genere ok andiamo a cominciare premere un tasto ecco qua istruzioni inizio avventura ok queste sono ci sono anche due esercitazioni uno per la fase di atterraggio che ricorda vagamente jupiter lander cose di questo genere l'esercitazione di combattimento in cui se veniamo attaccati da un'astronave di pirati di briganti dobbiamo dobbiamo difenderci ok facciamo direttamente inizio avventura grado tenente nave astro caccia quattro moduli adesso qui possiamo scegliere i moduli e come abbiamo detto possiamo sceglierne fino come ho visto possiamo scegliere fino a quattro sicuramente ci servirà il il laser poi ci servirà raggiare di ricerca mezzo da sbarco vediamo mettiamo i sensori il mezzo da sbarco che non so bene qual è la differenza e il serbatoio probabilmente con rata di ricerca possiamo vedere il i pianeti che si trovano intorno a noi con un raggio di un parsec senza finire direttamente sul sul quadratino dove si trova il dove si trova il pianeta però io prendo il serbatoio che mi dà un po più di autonomia sei sicuro sì ecco qua questa è la mappa galattica vedete pronti a muovere ci troviamo sopra alla alla base che dovrebbe essere il la freccetta verso l'alto e proviamo che ne so andare verso il basso vedete ci stanno direzione 9 su giù quindi 9 ci permette di passare a un livello superiore inferiore di questa mappa tridimensionale per ora non ci non ci addentriamo poi ci stanno tutte quante le caratteristiche il carburante numero di emissione punti di merito settore spaziale mediano ok perché forse sono tre livelli vabbè comunque proviamo andare verso il basso ci spostiamo verso il basso hanno la freccetta è ok non c'è sta niente qua quindi possiamo ancora muoverci continuiamo andare verso il basso quindi la freccetta non sasta nave e la l'asterisco dovrebbe essere la nostra base ok continuiamo andare scusi difensori 2 astro laser 1 risico a riserva di colpi radar 1 mezzi da sbarco 1 sensori planetari 1 bombe 9 0 livello danno 0 e sotto c'è livello della nave super med smedi med i infer non so che cosa voglio dire vabbè continua a mandare verso il basso lampeggia qualcosa di rosso perché che vuol dire tre astronavi di pirati spaziali in attacco ok adesso questa qui bisogna premere f7 per sparare più quei due si quelle due freccette si trovano vicino alla parte centrale più il colpo sarà preciso e infatti se riusciamo a farlo proprio alla fine bersaglio colpito e distrutto ok ci sono riuscito un'altra volta se non li colpiamo ci attaccano ecco ok l'ho colpito tutte e tre le volte perfetto se no se vogliamo scappare da quello che ho capito premendo f1 si può fare il salto per spaziale si consumano 5 punti di carburante se siamo messi male però si viene trasportati non si sa dove continuiamo ok pronto a muovere proviamo andare da questa parte in diagonale non ho ancora trovato nessun nessun pianeta proviamo andare di qua vogliote che succede quando trovo un pianeta niente non so se devo per forza trovare il pianeta o devo fare qualche cosa quando lo trovo attendere prego niente proviamo andare ancora qua sotto ancora ci attaccano almeno credo no tempesta magnetica è un radar distrutto premio un tasto e radar zero che vuol dire ma pure pensavo un radar zero no mi sa che ce l'avevo un radar prima devo ritornare alla base non lo so vabbè proviamo a continuare pronti a muovere voglio vedere che succede quando trovo un pianeta se lo trovo pronti a muovere niente non ho trovato niente niente andiamo verso l'alto però non so se senza 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 radar riesco a vedere i pianeti non lo so pronti a muovere ok come vi ho detto non è che ho avuto molto tempo per giocare questo gioco volevo fare questo video appena il gioco era uscito non vedo niente proviamo a ritornare alla base vediamo se ecco mi hanno riattaccato credo distorsione spazio temporale che succede boink boink che succede dopo qualcosa no sono stato trasportato a qualche altra parte e purtroppo mi trovo in un ok settore inferiore vabbè continuiamo a muoverci in questo settore vediamo se troviamo qualche cosa qua e se no alla fine proveremo a fare il salto per spaziale e vedere se riusciamo a ritornare a quello mediano ah ecco questo qui era un'altra distorsione spazio temporale ok quindi l'indicatore in basso a destra ci dice a che livello ci troviamo ok quindi ci troviamo ancora nel settore inferiore proviamo a fare un salto per spaziale come si fa a farzante f1 sì ok no però cosa ah no devo fare con 9 per spostarmi su o giù ok 9 per salire per scendere proviamo a salire ok proviamo a salire un'altra volta provo a ritornare alla base vediamo che cosa succede 9 per salire ok e sono ritornato nel punto mediano forse però non ho abbastanza carburante per tornare alla base vediamo se ci riesco pronto a muovere sono stato attaccato nuovamente no succede qualche cosa in emergenza incontro con astro cisterna che ci riferisce 10 punti di carburante oh bravo un po di fortuna quindi ci sono vediamo un sacco di cose anche casuali che non possiamo che non possiamo prevedere proprio per questo dobbiamo equipaggiare la nostra nave un po meglio perché temo che senza radar non troviamo niente oh punti di merito insufficiente si parte per un'altra missione vabbè riproviamo astro laser va bene questa volta però mi prendo il radar poi mi prendo i sensori e il serbatoio sei sicuro? sì vediamo se riusciamo a fare qualche cosa allora andiamo di qua adesso mi indica ecco mi hanno riattaccato è successo qualche cosa un imprevisto tre astronavi di pilati spaziali ci attaccano ok ho capito ok versaglio colpito e distrutto bisogna premere F7 al momento giusto né troppo presto né troppo tardi ecco infatti così troppo presto l'ho mancato e infatti mi attaccano loro ci ha mancato perfetto versaglio colpito e distrutto versaglio è mancato adesso ci attaccano loro ci ha mancato bene e non ho premuto troppo tardi adesso ci hanno colpito e ci abbassano lo scudo di un chicco e cazzo troppo tardi un'altra volta ok assenza scudo ci hanno e troppo presto lancio un nemico premendo F1 ci ha mancato per fortuna premendo F1 possiamo fuggire dal combattimento cazzo rola possiamo fuggire dal combattimento però appunto finiamo in un ecco ok versaglio colpito e distrutto però finiamo in un punto a caso della mappa allora continuiamo la nostra esplorazione io vorrei riuscire a trovare pianeta scoperto pianeta eccolo qua perfetto due pianeti due pianeti ho trovato ok perfetto proviamo ad andare in quello di qua col 3 perfetto video del pianeta ok figo eh ma è molto più elaborato di Conan no? 1 esplorare il pianeta e riprendere la missione esploriamo il pianeta dai pianeta abitato premi tasto per continuare scelta opzione inviare mezzo da sbarco lanciare la bomba inviamo un mezzo da sbarco adesso fatemi salvare però perchè il mezzo da sbarco per farlo eh atterrà bisogna fare una cosa un po' complicata che non so se sarò in grado di fare mezzo da sbarco non disponibile ok va bene niente quindi no non lo posso fare va bene e la bomba nuova non ce l'abbiamo e vabbè continuare la missione mi devo portare pure un mezzo da sbarco andiamo di qua un'altra volta vediamo attaccati suppongo no altro cisterno bene abbiamo un sacco di carburante premio il tasto spostiamoci nuovamente di qua vediamo quest'altro pianeta come è fatto esplorare il pianeta pianeta abitato eh eh però io non avendo non avendo il mezzo da sbarco eh non posso scendere vabbè eh però posso continuare a esplorare questa questa mappa cercando altri pianeti magari riesco a fare almeno continua la missione almeno magari riesco a fare abbastanza punti per avere una promozione ok andiamo giù non è successo niente vedete il gioco scoperto un altro pianeta dai eh quindi sì ok probabilmente la ehm il radar che è 2 mi permette di trovare eh penso ehm pianeti che si trovano nella zona nel quadrato in cui mi trovo e anche in un ehm nel raggio circostante ehm di un di un parsec adesso andiamo qua giù esploriamo pure questo naturalmente naturalmente se uno c'ha un mezzo da sbarco può ehm atterrare fare delle missioni e prendere ancora più punti di merito pianeta non abitato ok quindi qui non ci dobbiamo fare niente va bene quindi dicevo rispetto a Conan questo gioco sembra molto più elaborato molto più almeno credo eh poi magari dopo un po' che lo giochi è terribilmente ripetitivo però per ora mi sembra abbastanza abbastanza elaborato ehm diverso diverso da Conan sono un po' ehm come dire un po' deluso del fatto che non sia proprio il sequel di Conan perché volevo continuare l'avventura di avventura 1 però vabbè non si può avere tutto dalla vita il fatto che questo gioco sia stato trovato secondo me è già ehm un mezzo miracolo continuiamo a esplorare tanto di carburante ce ne abbiamo un bel po' non so se mi conviene andare in un altro ehm livello scoperto un altro pianeta tiè becca ok andiamo su quest'altro pianeta col 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 al primo livello esploriamo il pianeta se è il pianeta non abitato ok ehm dicevo al primo livello con un'astronave così scarcagnata non ci possiamo caricare sopra troppi moduli e quindi dobbiamo un pochino ehm scoperto un altro pianeta scegliere diciamo fra ehm fra varie fra varie possibilità mentre invece ehm sono stato pure c'è pure un'emergenza distorsione spazio temporale ok teniamo teletrasportati da qualche parte quindi dobbiamo ehm decidere se ah sono rimasto sempre nello stesso nello stesso settore però c'è un'altra un'altra emergenza un'altra distorsione spazio temporale dicevo quindi dobbiamo scegliere quali moduli portarci dietro e quindi decidere ehm più o meno come procedere come procedere la nostra avventura quindi da questo punto di vista c'ha anche degli elementi se vogliamo di di gioco di ruolo io non essendomi portato in mezzo da sbarco un'altra emergenza come non lo sapevo insomma comunque non si può non posso tempesta magnetica un radar distrutto vabbè però adesso a me il radar diciamo che non mi serve niente perché se riesco a esplorare questi due pianeti dovrei riuscire a fare dieci punti e potrei ritornare alla base e ottenere una promozione il video del pianeta a me mi faranno tutti uguali questi video comunque esploriamo il pianeta pianeta abitato ok continuare la missione no non mi ha dato punti però mi sa che non basta esplorarli andiamo da qua vediamo il pianeta esploriamolo pianeta non abitato premio un tasto per continuare ok pronti a muovere vabbè e proviamo ad andare proviamo ad andare in un altro in un altro piano andiamo in quello medio superiore medio inferiore superiore per salire saliamo ok ci troviamo nel livello medio superiore incontro con altro cisterna bene possiamo continuare la nostra esplorazione andiamo qua per esempio prima che troviamo un pianeta pianeta e tra l'altro e tra l'altro bisogna secondo me portarsi dietro un po' di di scudi di di radar di scorta perché senza radar mi sa che ok abbiamo scoperto un altro pianeta ci siamo però finiti sopra com'è che non l'ho scoperto prima esploriamolo pianeta abitato perché non mi da punti merito mi pare che la scoperta di un pianeta mi da dei punti ah si ecco 9 perfetto continuiamo ad andare giù di qua vediamo se troviamo un altro pianeta quindi probabilmente a livello più basso non possiamo eh sostanzialmente fare missioni diplomatiche esplorare i pianeti e quello sarà riservato al alle ai livelli superiori quando ci avremo navi più grandi che possiamo armare e equipaggiare con con mezzi con mezzi superiori e quindi ci permettono sia di esplorare e trovare i pianeti ma anche di colonizzarli ok nuovo combattimento sono sempre 3 combattimento tra 5 e 4 3 2 1 ok prepariamoci a sparare il bersaglio è mancato tra l'altro la velocità di queste freccette non è sempre quella stessa ci ha mancato per fortuna perché sono senza scudi praticamente colpito e distrutto però ho quasi finito i colpi anche questo è una cosa di cui tenere conto quindi al prossimo pianeta che trovo me ne dovrei andare perché ho finito i colpi un punto di merito mi sa che adesso me ne vado perché così già ne ho fatti 10 esatto ok a questo punto siamo nel medio superiore andiamo nel medio e basta ok questo è il video del pianeta precedente non ci interessa riprendere la missione e torniamo alla base 8 ok non succede niente e ritorniamo alla base punti di merito 10 sei stato promosso sei parte per un'altra missione e adesso vedete che adesso posso caricare 8 moduli adesso adesso si comincia a ragionare quindi facciamo astro blaster serbatoio radar di ricerca me li prendo tutti mezzo sensori bomba nuova credo che anche l'astro blaster mi dia più mi dia più colpi e probabilmente anche radar di ricerca mi prendo un radar di ricerca di scorta ok continuiamo ah però vedete la cosa la mappa è sempre la stessa interessante adesso posso andare direttamente a provare a colonizzare questi pianeti no? vediamo che riesco a fare andiamo giù video del pianeta adesso servo come avevo detto che facevo prima snapshot save snapshot ok e proviamo allora esploriamo il pianeta pianeta abitato perfetto inviare un mezzo da sbarco ecco eh sei pronto è scelta di equipaggio però come fa istruzioni eh io però non lo so se questo è a seconda del tipo degli abitanti i sensori ti aiuteranno a individuare la missione se non l'hai individuato puoi diventare il modulo polivalente eh io però il modulo polivalente ce l'ho? l'avevo fatto no? boh ehm a secondo del tipo di abitanti io dovrei decidere se voglio colonizzarlo fare diplomatico commerciale e poi facciamo polivalente va? ok ecco adesso bisogna usare i i tasti vedete questo è un pianeta con bassa gravità perfetto bisogna usare i tasti per ehm stabilire la potenza del del motore per far in qualche modo calare la velocità di discesa cercando di non consumare tutta quanta l'energia ecco ehm ok ok adesso sta scendendo con una velocità costante naturalmente più ehm meno meno il motore è potente più la velocità di discesa aumenta però per vedete per per atterrare in sicurezza bisogna avere una ehm velocità discesa minore di 20 al momento della del in cui si tocca a terra hm potenza dei motori 3 forse dovevo accendere i motori più tardi ok allora spegniamo un attimo i motori per scendere più rapidamente vedete dobbiamo tenere ad occhio la quota la velocità di discesa con un i motori a livello 4 vedete che la ehm la velocità di ehm di discesa rimane la stessa quindi a velocità a potenza 5 invece la facciamo diminuire però 7 8 la devo fare diminuire di più eh troppo vicino ecco come sto schiantato allora fatemi ricaricare ehm questo qua allora abbiamo detto esplorare il pianeta pianeta abitato mezzo da sbarco facciamo colivalente vediamo se riesco a capire come si fa sta cosa allora adesso scendo così anche se la mia velocità aumenterà tantissimo però quando sto circa a metà strada metto i motori al massimo così cominciò a rallentare vediamo se è così che si fa perché non posso nemmeno tenere i motori accesi per troppo tempo ok così la velocità comincia a diminuire speriamo di fare a tempo a frenare non ne sono sicuro forse sì vediamo se ce l'avamo stavolta sì ok adesso così la velocità di discesa è sotto 20 e la quota continua a diminuire adesso basterà aspettare che la quota arrivi a zero e dovremmo essere aterrati 900 metri 800 questo naturalmente ha un pianeta con gravità bassa e quindi la trazione è minore naturalmente se la gravità fosse alta si verrebbe attirati maggiormente l'accelerazione di gravità sarebbe maggiore quindi sarebbe tutto un po' più rapido ma speriamo che riesco a atterrare prima di finire l'energia non ne sono sicuro 130 120 90 ecco fatto televideo penso che mai vuol dire una telecamera rapporto dal pianeta a mezzo da sbarco atterrato vediamo che succede tipo pianeta vita intelligente amichevole stipulata una salda alleanza due punti in merito missione finita recupera modulo che vuol dire? ah che adesso probabilmente devo farlo ritornare in in orbita adesso riservo un'altra volta perchè non voglio rifarlo premi tasto ah no no recupera automaticamente c'è il raggio 30 perfetto e quindi è così che funziona però mi domando qual è la differenza tra il modulo palivalente e un modulo specifico probabilmente dice che è meno efficiente ma non so che intenda ok adesso che abbiamo scoperto tutti questi bei pianeta possiamo provare in qualche modo a colonizzarli che cosa c'è qui? ad esempio esploriamolo pianeta abitato premere tasto però non ci dice niente di più inviare mezzo da sbarco e rifacciamo e rifacciamo col polivalente naturalmente risato polivalente com'è qui la velocità? bassa ok facciamo come prima aspettiamo di arrivare a metà strada poi accendiamo il motorio al massimo e poi a un certo punto fino a che non scendiamo sotto sotto 20 e poi li mettiamo a 3 e a 4 adesso non mi ricordo ecco mettiamoli al massimo facciamo scendere la nostra velocità di discesa sotto 20 sperando che faccela spero che faccela forse sì ok eh no devo metterli almeno a 5 per far diminuire la velocità di discesa sotto 20 ecco adesso li metto a 4 e adesso vedete che la quota diminuisce con una velocità costante facciamo attenzione a 4 vabbè quindi più o meno il il meccanismo è questo poi naturalmente pianeti diversi richiederanno approcci diversi vedete abbiamo consumato anche un bel po' di energia forse non è il il modo più efficiente quello di accendere i motori a palla a metà strada comunque siamo riusciti ad atterrare perfetto rapporto dal pianeta vita intelligente e amichevole equipaggiamento non conforme che vuol dire gli indigeni si sentono effesi il pianeta è ora proibito missione finita non so che forse non andava bene il polivalente però io non so come fare a capire se il pianeta è quale tipo di vita c'è sul pianeta quindi non so bene come come fare a regolarmi proviamo a fare un altro pianeta poi diciamo che può bastare pronta un po' ora andiamo su quest'altro il video del pianeta credo che sia semplicemente dimostrativo non credo che significa niente esplorazione pianeta pianeta abitato non lo so forse dovevo prendere due due sensori non lo so inviare mezzo da sbarco come al solito facciamo per polivalente e potremmo eservare anche questo ha gravità bassa quindi facciamo come prima aspettiamo di arrivare a metà e poi mettiamo il motore a massimo tutto quanto ho fatto in basic però ho fatto veramente bene devo dire che è un un bel giochino quindi complimenti ad Alessandro Castellari ovunque egli si trovi ok accendiamo il motore al massimo facciamo scendere la velocità sotto 20 quindi non c'è solo diciamo la parte strategica ci sono anche queste piccole sequenze arcade che insomma in qualche modo spezzano un po' la monotonia devo dire che è un gioco molto molto carino sicuramente vale la pena di esplorarlo allora facciamo scendere la velocità sotto 20 ecco qua e 3 vabbè così ci metterà un bel po' per proviamo ad abbassare un po' facciamola salire un pochino ecco 16 e 61 quindi insomma è un gioco che sicuramente vale la pena di investigare di provare perché secondo me è molto divertente insomma l'obiettivo come abbiamo capito è quello di salire tutti quanti i livelli che credo siano 4 o 5 in meno di 10 missioni quindi dobbiamo riuscire a fare almeno 10 punti per ogni missione in meno di 10 missioni cosa che non è scontata perché ci sono appunto dei casi in cui sarà anche difficile riuscire a ritornare alla base ecco qua ok atterrato mettiamo il tasto equipaggiamento inadeguato tipo pianeta vita non intelligente equipaggiamento inadeguato e lo so ho capito però io come faccio a capire se se non c'ho se non c'ho la possibilità di capire prima com'è il tipo di mission il tipo di di vita sul pianeta come faccio a capire quale no no ma io non volevo riatterrà perché mi ha fatto riatterrà non volevo riatterrà che è successo vabbè non so perché mi ha fatto rifare questa cosa ma volevo spostare ci deve essere un modo per riuscire a capire qual è la il tipo di vita che si trova sui pianeti non semplicemente se è abitato oppure no ma riuscire a capire che tipo di vita c'è adesso io non ho capito qual è il qual è il trucchetto qual è il meccanismo il punto è quello in base a questa informazione uno può scegliere se la missione che sbarca è una missione diplomatica una missione di colonizzazione oppure se invece il pianeta è ostile bisogna dire acce sopra la bomba aumentiamo un pochino la velocità di discesa tanto basta che stiamo sotto sotto 20 aspettiamo che la quota arrivi a zero e poi credo che non so bene perché mi ha rifatto la stessa cosa ok premi il tasto non intelligente copeggiamento inadeguato va bene recupera modulo premi il tasto e torna su va bene ah ecco perché ho ripremuto due no devo fare continua missione ok pronto a muovere per esempio qua che c'è su quest'altro pianeta che c'è questo è un pianeta esplorato che vuol dire ah che ci sono già sceso ok non mi ricordavo andiamo qua sotto andiamo di qua nuova nuova emergenza distorsione spazio temporale dove sono finito blu 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 sono finito nel settore superiore però ho scoperto un pianeta vabbè ok andiamo direttamente subito su sto pianeta e poi direi che possiamo anche concludere qua il video esplorare esplorare il pianeta uno pianeta non abitato e allora non serve a niente allora pianeta non abitato no però aspettate forse c'era la possibilità di fa no se non abitato non possiamo nemmeno fare la colonizzazione oppure si no non ma vabbè forse se abitato da vita vita non intelligente posso fare la colonizzazione allora forse non abitato vuol dire in realtà non abitabile tempesta magnetica un radar distrutto vabbè ok quindi la nostra capacità di vedere è stata diminuita vabbè che ne so proviamo ad andare ancora un po' più giù scoperto un altro pianeta bene però c'è anche un'emergenza speriamo che non sia un combattimento tempesta magnetica un altro radar distrutto bene andiamo qua proviamo a vedere quest'altro pianeta esplorare pianeta pianeta abitato ok inviare il mezzo da sbarco polivalente gravità alta ok quindi probabilmente dovremmo accendere il motore al massimo un po' prima facciamo a tre quarti va tipo qua cominciamo da qua vediamo che succede se riusciamo a frenare in tempo o se distruggiamo il nostro mezzo da sbarco vediamo che succede va finì che lo distruggiamo perché mi sembra che non scende abbastanza rapidamente a causa della gravità del pianeta più alta la trazione è maggiore quindi vediamo se riusciamo a scendere sotto venti in tempo mi sa di no forse si forse ce la facciamo per emergenza premi f5 no voglio provarci fino in fondo no mezzo da schiantato bam ok niente rapporto dal pianeta mezzo da sbarco distrutto questo dovrebbe essere televideo vabbè dovrebbe essere la telecamera la telecamera distrutta abbiamo perso pure mezzo da sbarco va bene ok direi che per questo gameplay può anche bastare devo dire che è una piacevole una piacevole scoperta dopo insomma quasi 40 anni trovare finalmente scoprire che che gioco era avventura 2 se c'era veramente prima di tutto se esisteva veramente avventura 2 quindi la risposta è sì esiste però è un gioco che non è il seguito di Conan è un gioco di esplorazione spaziale molto molto diverso dal precedente gioco insomma un po' gioco di ruolo un po' strategico un po' gioco da tavolo comunque secondo me molto interessante con una certa varietà un pochino insomma casuale ecco uno può anche acquittarsi come vuole la missione ma poi ci stanno questi elementi casuali che sono incontrollabili come le tempeste magnetiche però ci sono anche delle cose positive come incontrare l'astrocisterna che ci dà 10 punti di carburante per permetterci di continuare la missione l'idea mi pare per capito che all'inizio con navi piccole si può fare solo giusto ecco un'esplorazione trovare i pianeti però per cominciare poi a esplorarli eventualmente colonizzarli oppure mettere su missioni commerciali o alleanze e cose di questo genere bisogna aspettare di arrivare a livelli più alti per poter portare più moduli sull'astronave quando avremo delle astronavi più grandi ok un grazie ancora a quelli di 4 bit per aver portato alla luce questi questo gioco sia la versione commerciale di avventura 1 che avventura 2 che finora erano erano sconosciuti non erano ancora stati trovati e quindi è un bel recupero una bella una bella scoperta grazie anche a il sito per aver messo a disposizione gli inlay le scansioni e i le rom insomma i file tap dei due giochi nella nella descrizione del video metto i link a tutte queste pagine quindi se vi interessa potete leggere le storie e anche scaricare i giochi e provarli per conto vostro nel complesso devo dire che è stato estremamente interessante e divertente ci vediamo alla prossima ciao ciao